Stiamo anche ragionando della settimana prossima, vorremmo aprire per due categorie che secondo noi sono molto importanti, il mondo del turismo, quindi mettere in protezione tutti gli operatori del mondo del turismo e poi l'altro settore che vogliamo mettere in protezione subito insomma è quello dei centri estivi, ricreativi, dei campi scuola per i ragazzi e gli adolescenti che si apriranno qui a breve. Queste le priorità nella campagna vaccinale cui sta lavorando la regione accanto alle ulse del territorio. I numeri non sono indifferenti soprattutto per il comparto turistico ormai ai nastri di partenza. Abbiamo circa da mettere in protezione all'incirca insomma più o meno 60.000-65.000 persone per le strutture ricettive, alberghiere, per tutto il turismo all'aria aperta, il campi e quant'altro. Da vaccinare quanto prima anche il mondo dei centri estivi che dal 7 giugno con il Veneto in zona bianca tornerà ad accogliere bambini e ragazzi. Siamo in contatto quindi con tutte queste realtà per la vaccinazione degli operatori, degli educatori, dei volontari che sappiamo sono anche ragazzi molto giovani e quindi mettiamo anche in protezione insomma una fascia molto giovane della nostra popolazione. Intanto sono state diramate le nuove linee guida regionali per la riapertura dei centri. Il principio, afferma Lanzarina, è stato quello della massima semplificazione. Genitori e operatori dovranno firmare un patto di responsabilità dove si impegnano al mantenimento di comportamenti corretti. Ogni centro disporrà poi di un referente Covid con i partecipanti suddivisi in gruppi omogenei, le cosiddette bolle. Ma novità di quest'anno, non ci saranno limiti numerici rigidi per le singole formazioni. Questo significa di fatto più disponibilità di posti rispetto al 2020. Ritornando alla campagna vaccinale, Lanzarina guarda alle nuove mosse del commissario che dal 3 giugno ha annunciato l'addio al sistema delle fasce d'età. È chiaro che ci sarà a un certo punto un liberi tutti, l'ha detto e l'ha annunciato anche il generale Figliuolo. L'importante è che ci arrivano vaccini.